Le foto sono sue. Ma questa non è mia moglie. Allora chi è il corno da cui abbiamo mandato le foto? Ti voglio lasciare, non ce la faccio più. Ma poi cazzo, guardati! Sei vestito da clown! Ma io sono un clown! Facciamo le mie o... Pompa Magna, il tuo primo film da protagonista. Il 60% dei tradimenti avviene sul posto di lavoro. Io voglio sapere se mi tradisce al di fuori del posto di lavoro. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Il signor Marini non si ricorda niente. Ha perso la memoria. Che cazzo ha questa? È la moglie. No, la moglie sono io. Dottore, desidererei tornare in coma. Quant'è che ti scopi la mia ragazza? Dimmelo! No, che sarà? Da quando abbiamo iniziato il film? E ora che si fa? La memoria ritorna gradualmente. Devo riposare molto e passare tanto tempo con la sua famiglia. Qual? Mi hai emozionato tantissimo. C'ho la pelle d'occa. Non si sente niente. Ho detto che ho la pelle d'occa. Ogni tanto mi pento di non aver mai ascoltato quello che mi diceva mio padre. E cosa ti diceva tuo padre? Non lo so, non l'ho mai ascoltato. Dai! Sua figlia è gay e io sono il suo ragazzo. Ma avete fumato marijuana? No. No. Sì. Non avreste un po' anche per me. Felice come mai E non capisco che Tu mi nascondi qualcosa Se mai non è quello che hanno fatto vedere in tv L'imprenditore che faceva due settimane con una e due settimane con l'altra Mi tolgo una curiosità Non c'è proprio nessuno che si fa i cazzi propri?